Una volta sono andato, in quei giorni, oggi sono appena tornato dal Kailash. Dal Kailash sono andato in Australia e ritorno. Quindi oggi quando viaggio c'è tutto un circo che viene con me, ok? Troppa organizzazione. Abbiamo ogni tipo di scarponi, abbiamo vestiti, abbiamo questo, quello, i guanti, le macchine e tutto quanto. Non puoi immaginare, troppa organizzazione. All'epoca andavo semplicemente da solo, con un autobus locale. Di solito mi sedevo in cima all'autobus e andavo perché non volevo perdermi le montagne. E questi sono autobus pazzi. Partivano alle 4, 4.30 del mattino da Aridvar e andavano diretti. A Gaurikund o a Badrinath. Devono arrivare lì. Quindi non si fermano da nessuna parte. Questi autobus venivano chiamati Bukartal, che significa autobus da sciopero della fame. Perché non si fermano da nessuna parte per mangiare. L'autista apre il suo ciappate, arrotolato, e inizia a mangiare mentre guida. Quindi tu stai seduto lì chiedendoti dov'è il pranzo, dov'è il pranzo, niente pranzo. Per questo sono chiamati Bukartal. Quindi andavo a sedermi in cima all'autobus perché non volevo perdermi nemmeno un pezzettino di montagna. E arrivavo nei cavi elettrici. Lui gridava, Bidjli! Che significa sdraiati. E di nuovo ti alzavi. Quindi sono andato lì senza alcun tipo di cose. Non era la prima volta che andavo. Ci sono stato... Penso che per 26 anni circa ci sono andato senza interruzione. Ogni anno. E avevo solo i miei jeans e la maglietta. E la mia giacca di tela che usavo per andare in moto nel sud dell'India. Va benissimo per la pioggia, ma... All'improvviso mi sono reso conto che quando vai al freddo, la dannata giacca di tela diventa più fredda dell'atmosfera. Quindi sono salito e sono andato al Kantisarovar. Erano le 3.30 circa del pomeriggio. Stavo semplicemente seduto lì e non sapevo cosa mi avesse colpito. Stavo semplicemente seduto lì con gli occhi aperti. È un incredibile lago glaciale. È... In quanto natura è straordinariamente bello. I miei occhi erano aperti. La mia bocca era chiusa. Ma potevo sentire la mia voce cantare forte intorno a me. Molto forte. Come se ci fosse un grande microfono. Nada Brahma Vishwa Swarupa Nada Brahma Vishwa Swarupa Nada Hii Sakala Jeeva Rupa Nada Hii Karma Nada Hii Dharma Nada Hii Karma Nada Hii Dharma Nada Hii Bandhan Nada Hii Mukti Nada Hii Bandhan Nada Hii Mukti Nada Hii Shankara Nada Hii Shakti Nada Hii Shankara Nada Hii Shakti Nada Hii Shakti È chiaramente la mia voce che sta cantando questo canto. Per la prima volta lo sento. Ma è la mia voce. E la mia bocca è chiaramente chiusa. Quindi stavo seduto lì ad ascoltare ed è quello che abbiamo appena cantato. Quello che significa è il suono. Nada significa suono. Suono non è una traduzione appropriata. Ma nella lingua inglese non esiste una parola appropriata per NAD. NAD è più che suono. Probabilmente perché non esiste una traduzione appropriata in lingua inglese sono successe cose simili. Penso ci sono dei lettori della Bibbia? Qualcuno? Nessuno? Oh. Penso non l'ho letta ma l'ho solo sentito dalle persone. Sembra che la prima parte della Bibbia dica in principio era il verbo e il verbo era presso Dio e il verbo è Dio. Qualcosa del genere. Giusto? Qualcuno lo sa? Qualcosa del genere. Vedi, in questo momento qualsiasi cosa io stia pronunciando in questo momento sto solo facendo dei suoni. Ma tu stai interpretando questi suoni in quanto parole non è vero? Sì. In realtà sto solo facendo dei suoni. Supponi che io parli in una lingua che tu non capisci. La parola sarebbe suono e il suono sarebbe parola non è vero? Nella tua esperienza anche adesso è così ma tu pensi che siano parole non sono parole sono solo suoni. Quindi da qualche parte quando è giunto la lingua inglese il suono sembrava troppo astratto quindi qualcuno ne ha fatto una parola. Ciò che è un suono diventa una parola nella mente umana ma nell'esistenza un suono è solo un suono non è vero? Se non c'è nessuno qui in questa sala se parlo non importa in che lingua parlo per quanto riguarda i muri è semplicemente un suono solo se tu vieni a sederti qui inventi le parole a partire dal suono non è vero? Quindi nad va oltre il suono non esiste una parola appropriata ma qualcosa di più di suono perché il suono non viene visto come una quantità fisica viene visto come l'ultimo baluardo della fisicità nello yoga consideriamo il suono come l'ultimo stato della fisicità oltre ciò non esiste il fisico significa che il suono è tutto e il suono è vita tutte le forme di vita sono suono suono significa una vibrazione oggi la fisica moderna sta dimostrando che ogni cosa è solo un riverbero nell'esistenza e ciò che è karma e ciò che è dharma significa che ciò che ti lega è karma ciò che ti libera è dharma entrambi sono suoni ciò che è vincolo e ciò che è liberazione anche quello è suono ciò che viene chiamato Shiva e Shakti anche quello è suono ogni cosa è suono qualunque cosa conosci in quanto creazione fisica è un suono perché ogni cosa possiede una vibrazione dove c'è una vibrazione c'è un suono se tu possa o meno sentirlo è l'unica domanda ma c'è un suono ovunque c'è una vibrazione c'è un suono è un suono